beh a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video sono Grega oggi siamo qui con Rainbow Seasage siamo sull'aereo chi non l'avesse notato allora vedete sono qua proprio allora quasi escono una merda non stiamo usando fiozzo piazzo pezzo di merda unico rievato all'esterno non è bastardo boh ok rieccoci ok vediamo un po' tra distanza riunioni mi pare che è la prima si questa qua non voglio bombe quindi li metto qua allora mettiamo dal muro qua scusate se non ho più portato video ma ho portato vedere l'iso che c'è una connessione un po' di merda qui non me le fa fare ok vieni qui ma davvero non è che è scuro ok cos'è almeno settimana le bombe non è che c'è una connessione un po' di merda pezzo di merda ultimo attaccante rimasto in vita no merda sono morto ok rieccoci ragazzi allora allora vediamo dove siamo si qua provate il contenitore di fioricchio non sono di sicuro cosa ho sotto sotto sono sotto sento il rumore sento ho sentito dei rumore di sotto ma non sono sotto eppure io sentito il rumore di sotto ba segnalato il sogno che è il rumore di sotto eppure quasi è trazzo ecco non abbiamo fatto manco una chiedra ragazzi e dopo riprendiamo una ma io ho paura se c'è profumo non è possibile se lo può romper no non 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 bella ucciso cosa è un pezzo di merda ucciso? bella ok ok se vinciamo sto round abbiamo prima 2 kill epiche allora io metterei uno qua bisogna sconare ragazzi ora vado mettiamo uno qua ma io mancano 10 secondi per la piazzera ancora con le muratate c'è ma qua c'è ma qua ok eeeh mi metto qua e' un rosso un qua un ca sopra che farebbe ma che 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 Allora vediamo ora da Oh Vediamo se lo riesco a accedere Bella ragazzi Mamma mia Uff Mamma mia Uff Minchia mezzo infarto eh ragazzi Mezzo infarto Ok rieccoci ragazzi Dopo quelle due Epiche kill che ho fatto Sono rimasto da solo Ho uscito quei due Sarà venendo un infarto eh ragazzi Però No io ragazzi quando rimango solo Minchia mezzo Un appa Un infarto Cioè non so Boom 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 Mi dicono Ma mi uccido Ma mi uccido Ca sono Ok c'è lui L'hanno quitato però peccato Secondo me E' quella che piace Ok No No Non è morto Ragazzi Ok Siamo morti prima in un modo assurdo Allora Allora Vediamo di faccia Con questo servizio Abbiamo vinto tutto Allora Per chiudere qua Arrivano Ok 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 Barricchiamo anche qua Ok 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 Non me l'ha messo Non me l'ha messo Oh Stiamo scherzando Stiamo scherzando Ok Dove è messo Un po' al sicuro Però C'è chi Quindi occhio Un po' nella merda Un po' al sicuro vediamo dove possono essere il caricatore bella ragazzi abbiamo vinto abbiamo fatto 4 chiedi però siamo arrivati anche primi ok eccoci qua questo è il metto bianco proprio ok 5.595 bel punteggio fatto niente ok 346 punti fama e boh siamo nel livello 72 e comunque il video finisce qua da Red Tutto ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao Grazie a tutti